Anche questo giovedì ci incontriamo per i giovedì di EIT, devo dire che via via stanno cambiando le stagioni perché abbiamo cominciato la primavera, adesso siamo nel buio dell'inverno, però andiamo avanti a trovarci ogni 15 giorni con questi incontri e con questi ospiti che arricchiscono e che quindi ringrazio tutti, ringrazio questa sera Jonathan Gambini che ha accettato di venirci a raccontare un po' qualcosa sul 5G e tutto. Io sono Paolo Ravazzani, sono il direttore dell'Istituto di Elettronica e Ingegneria delle Informazioni e delle Telecomunicazioni del CNR, fatto salvo che vi do ormai per chi è un abitué di questi giovedì, il solito comunicazione che l'evento sarà registrato e verrà messo sul nostro canale YouTube, per cui chi non desidera essere né ripreso né niente non accenda la telecamera. Passo la parola volentieri a Vittorio Rampa che così introdurrà sicuramente meglio di me il nostro ospite. Buonasera a tutti, sono Vittorio Rampa, sono ricercatore senior presso l'Istituto di Elettronica e Ingegneria delle Informazioni e delle Telecomunicazioni e per me è un grandissimo piacere introdurre Jonathan Gambini che conosco già da qualche tempo. Brevemente per non togliere spazio alla sua presentazione farò una breve digressione sulla biografia di Jonathan che si è laureato, ha conseguito la laurea specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni con l'Ode nel 2007. Da gennaio a luglio 2007 è stato visiting researcher presso New Jersey Institute of Technology, Center for Wireless Communication and Signal Processing che ora ha cambiato nome e si chiama Center for Wireless Information Processing. Nel 2010 ha conseguito il dottorato in Ingegneria delle Informazioni e Telecomunicazioni sempre presso il Politecnico di Milano con il gruppo del professor Rubato Spagnolini. Nel 2011, sempre presso il gruppo del professor Spagnolini, è stato assegnista di ricerca lavorando sui sistemi antenne distribuite e dal marzo 2012 è assunto e lavora con Huawei Technologies. Brevemente, le sue attività di ricerca si focalizzano sugli aspetti sia algoritmici che teorici dei sistemi di comunicazione wireless e in particolare quelli relativi all'elaborazione di tipo Statistical Signal Processing. Non tolgo altro spazio e passo la parola a Jonathan. Grazie Jonathan per essere qua. Grazie, grazie Vittorio della presentazione e soprattutto di avermi offerto questa interessante opportunità. In effetti stavo pensando proprio ieri che insomma ci conosciamo da tanto e abbiamo iniziato a conoscerci 15 anni fa quando io ero tuo studente nel corso di algoritmi. Quindi insomma il tempo passa, ecco. E si è passato un po' di tempo. Comunque mi sono. Sì, quindi complemento quello che hai detto diciamo riguardo a me semplicemente con una informazione di carattere geografico per così dire. Io lavoro in uno dei centri di ricerca sviluppo che Huawei ha in Italia, in particolare la nostra sede è a Milano e la nostra area di competenza è l'alta frequenza. Ora, non me ne abbiano coloro che si occupano di comunicazioni ottiche, ma per noi alta frequenza vuol dire tutti i sistemi di comunicazione con frequenza maggiore dei 6 GHz. Ovviamente stiamo parlando di sistemi radio. Ora, io intanto condividerei la mia presentazione, ci metto solo un attimo. Allora, la mia presentazione di oggi fondamentalmente è contenuta tra questi due estremi, tra questi due riferimenti temporali che vedete comparire qua. Abbiamo una situazione presente caratterizzata dal 5G e poi parlerò anche di alcuni requisiti, di alcune direzioni di ricerca che magari riguarderanno sistemi per così dire di futura generazione. In questo intervallo temporale piuttosto lungo, perché per i sistemi di futura generazione si prevede un orizzonte di almeno tra cinque anni, se non di più, abbiamo quello che possiamo chiamare come Beyond 5G. Ora, Beyond 5G per me potrebbe essere definito come fondamentalmente lo studio, il progetto di una serie di soluzioni. Stavo appunto dicendo, parlando di quello che è il Beyond 5G, che io intendo come tutta una serie di, uno studio e un progetto di soluzioni per migliorare i sistemi 5G attuali e nello stesso tempo per rendere questi sistemi 5G attuali anche più attraenti dal punto di vista di mercato. Ovviamente il 5G è qualcosa di estremamente vasto. Io oggi mi volevo concentrare su soluzioni che hanno come tema conduttore l'ambiente, ovviamente l'ambiente elettromagnetico. Quindi passerò da sistemi che in qualche modo cercano di imparare, di adattarsi all'ambiente, a soluzioni che in qualche modo cercano addirittura di adattarsi all'ambiente stesso. No? Quindi questo è un po' il quadro in cui mi muoverò. Quindi iniziamo, come dicevo, dal presente. Anzi, più che presente, questa è una slide per me un po' nostalgica, perché a parte la data 2020 che vedete qui, mi riporta quando l'esperienza del 5G è iniziata, in cui non c'era chiaramente uno standard, ma quello che c'era erano dei requisiti che venivano espressi come fattori moltiplicativi abbastanza importanti rispetto alle prestazioni del precedente standard traduttivo, cioè il 4G e l'LTE. I fattori moltiplicativi erano del tipo, sono del tipo 10x, a volte anche di più. Ora, per ottenere queste prestazioni, nel 5G fondamentalmente, quantomeno per quanto riguarda il livello fisico, abbiamo seguito due strade. Una, quello di allocare nuovo spettro, e l'altra, quella di impiegare un numero massivo di antenna, tant'è vero che si parla di Massive MIMO, no? E questo numero massivo di antenna può essere sfruttato sia per la moltiplazione spaziale, che anche per fare tecniche di beamforming, quindi di focalizzare l'energia solo in direzione del 5G. Ora, come dicevo, il primo punto del 5G è stato allocare uno spettro. Abbiamo allocato spettro sia al di sotto dei 6 GHz, no? In cui la banda prevalente, insomma, più di interesse è quella tra 3,4 e 3,8 GHz, ma anche nella cosiddetta regione millimetrica. Qui invece la banda più di maggiore interesse è quella compresa tra i 24 e i 29, quindi la prima bandina rossa che vedete. Ovviamente a regione millimetrica le bande sono, come dire, più grandi, più larghe rispetto a quello che avviene sotto i 6 GHz. Ma un punto interessante adesso è considerare che se avessimo un mappamondo e iniziassimo a colorare le regioni in cui si sta effettivamente investendo in 5G, otterremmo una immagine di questo tipo, che peraltro preso dal sito del GSA. Beh, allora ci sono in generale 122 operatori dichiarati che stanno in qualche modo, che hanno lanciato servizi di tipo 5G. Ora, una domanda interessante è come cambierebbe questo quadro se io considerassi solo le frequenze millimetriche, in particolare quelle tra i 24 GHz e i 29 GHz. Beh, otterremo una figura di questo tipo. Chiaramente il mondo appare un po' meno colorato rispetto a prima. In particolare ci sono 23 operatori attestati, diciamo, che stanno attivamente disponendo, installando reti 5G. Quindi se confrontiamo questo numero di 23 col precedente numero di 122, più o meno ne viene fuori un rapporto di 1 a 6, 1 a 5, insomma. Questo rapporto viene fuori se guardiamo il mondo dei dispositivi. Cioè, nei dispositivi considerati non solo telefonini, quindi mobile, ma anche computer, ogni tipo di device cosiddetto, di tutti i dispositivi che sono commercialmente disponibili, solo più o meno il 18% sono in grado di supportare frequenze millimetriche, in particolare le frequenze che ho indicato prima, quelle del 24-29 GHz. Quindi quello che ne emerge, guardando lo stato attuale del mercato, sicuramente, è che è stata data una maggiore priorità alle bande sotto i 6 GHz. Questo perché? Beh, il motivo è molto semplice, il motivo risiede di tipo squisitamente propagativo, nel senso che propagare il segnale a 29 GHz innanzitutto ha un'attenuazione di spazio libero molto maggiore rispetto a quello che succede a Sub6, e poi c'è anche un discorso legato alla difficoltà con cui il segnale riesce a propagarsi in ambiente urbano caratterizzato da diversi ostacoli, che possono essere difficili, eccetera. Se guardiamo però solamente l'aspetto attenuazione da spazio libero, quello che uno può fare in generale per rimediare a questo inconveniente, da una parte possiamo aumentare la potenza degli amplificatori di potenza, dall'altra incrementare il guadagno d'antenna. Allora, incrementare la potenza degli amplificatori di potenza sì, lo possiamo fare, chiaramente fino a un certo punto, perché ci sono poi dei limiti tecnologici. Per quanto riguarda il secondo punto, cioè incrementare il guadagno di antenna, che vuol dire fare antenne più grandi, di fatto nel 5G le Bay Station adottano degli array di antenne, cioè si adottano delle schiere di tanti elementi radianti in modo tale, come primaria funzionalità, di essere in grado di andare a concentrare l'energia verso una particolare direzione. Ora, un punto che è stato un tema abbastanza caldo nella ricerca del 5G millimetrico è stato capire che tipo di architettura mettere dietro queste antenne. Ci sono chiaramente varie opzioni da vagliare. Un'opzione potrebbe essere quella che è nota come architettura full digital. Cioè, nell'architettura full digital, io a ogni antenna, cioè sono in grado di fare process in digitale per il segnale catturato da ogni antenna. Questa struttura ha prestazioni molto buone, ma ha un consumo di potenza abbastanza alto, perché poi basta pensare, tra le altre cose, che tutti questi segnali hanno in qualche modo di lavorare. Quindi avrò della potenza da dissipare. Quindi un'altra opzione potrebbe essere quella di andare per un'architettura ibrida digitale analogica in cui si hanno un certo numero di antenne, un numero inferiore di convertitori, e poi un'interfaccia tra antenne e convertitori di tipo analogica. È chiaro che adesso il grado di libertà è come fare questa rete analogica. Ero proprio arrivato più o meno a questa slide in cui stavo argomentando il fatto che dietro queste antenne ci possono essere diverse scelte architetturali. Una è la full digital. Vado avanti di una slide e questa slide mostra una nuova architettura, cioè l'architettura digitale, ibrida digitale analogica, in cui c'è un certo numero di antenne che passano a un certo numero di convertitori tramite un'interfaccia analogica. Questa interfaccia analogica può essere progettata in vario modo, in generale, e, cambio slide, sarà tipicamente costituita da face shifter, da piccoli amplificatori, switch, tipicamente questi elementi, e in generale vale un po' la regola che più la faccio complessa, più ottengo buone prestazioni, ma probabilmente è più difficile da un punto di vista realizzativo. Quindi, nella implementazione, chiaramente devo bilanciare questo tipo di compromesso. Cambio slide, dovreste vedere adesso uno scenario diverso, in cui quello che vado a sottolineare sono le opportunità, dato che parlavo appunto di un millimetrico che in questo momento non è, come dire, la primissima scelta dal punto di vista di mercato, parlo di quelle che possono essere le priorità, scusate, le opportunità del millimetrico per un ecosistema di tipo 5G. Allora, in generale, si pensa che ci sarà un layer di copertura a bassa frequenza, che fondamentalmente è quello viola, che vedete, e poi si utilizzerà il millimetrico per andare a dare alta capacità in certe regioni, dove, insomma, questo lo richiede. Vi faccio notare che un'applicazione abbastanza interessante per il millimetrico è quella che vedete in basso a destra, e viene indicata appunto con l'acronimo FWA, Fixed Wireless Access, che è un'applicazione in cui la PlayStation non va a servire uno scenario mobile, ma va a servire delle postazioni fisse, per esempio nelle abitazioni, insomma, all'esterno magari di unità abitative urbane, e questo è stato uno scenario applicativo abbastanza di interesse per il millimetrico sin dall'inizio. Benissimo. Adesso, dunque, ritorniamo all'indice, e quello di cui vi parlerò adesso è un tema che sarebbe quello della possibilità di creare sistemi che in qualche modo imparano dall'ambiente e imparino ad adattarsi all'ambiente, ok? Questo per migliorare quello che imparino ad adattarsi all'ambiente più di quanto non lo facciano già, ovviamente. Questo per migliorare alcune funzionalità, per esempio, dei sistemi 5G. Allora, facciamo una premessa prima di introdurre il primo esempio. In generale, nel 5G c'è una trama ben specifica, chiaramente, e all'interno di questa trama sono riconosciute degli spazi frequenza-tempo abbastanza precisi in cui la base station andrà a trovare, andrà a cercare nuovi utenti. Come fa la base station 5G? Praticamente va a fare del beamforming, quindi dirige energia verso determinate direzioni e scandisce in modo sequenziale azimut e l'elevazione fino a trovare nuovi utenti. La domanda è posso fare qualcosa di meglio? Beh, in generale, uno può pensare che una macro base station in qualche modo sarà installata in un ambiente cittadino dove ci saranno ostacoli, quindi ci sarà una distribuzione non uniforme degli utenti, cioè gli utenti tenderanno ad essere concentrati maggiormente in certe direzioni. E questo è un punto. E poi c'è anche il punto che la base station può anche imparare i tempi di interarrivo di questi utenti. Ok? Questo dovrebbe essere mostrato nella slide di adesso. Quindi, in qualche modo, la base station, imparando dalla distribuzione spaziale degli utenti e anche dai tempi interarrivo, potrebbe andare a progettare una sequenza ottima di scansione dell'ambiente elettromagnetico rispetto a quella che menzionavo prima. Quindi, la scansione sequenziale in azimut in elevazione. Questi concetti, menziono solo, che sono introdotti in questo articolo che vedete qua, scritto a destra, del professor Tomasini Zorzi, che noi conosciamo bene perché abbiamo collaborato con loro da diversi anni. E sono affrontati un po', per esempio, questi concetti. Allora, io posso fare un passo ancora ulteriore in questa direzione, no? Se gli utenti, insomma, i pedoni, che sono vincolati a stare in determinate posizioni, ancora più la saranno le macchine che sono proprio vincolate a stare lungo la strada. Non solo, in generale, posso osservare che per diverse macchine che passano nella stessa posizione, la base station tenderà a scegliere sempre gli stessi beam per andare a comunicare con quella macchina in quella particolare segmento di strada. quindi queste sono, diciamo, caratteristiche del canale che possono essere sfruttate dalla base station per migliorare qualche suo meccanismo. Per esempio, in questo paper che, in cui, autrice che conosco è la professoressa Monica Nicoli del Politecnico di Milano, l'idea è, da una parte, di sfruttare il passaggio di diversi veicoli nella stessa posizione per andare a creare un certo database sulle statistiche di lungo periodo del canale e poi sfruttare direttamente la posizione di questa macchina perché la base station possa immediatamente andare a selezionare il miglior set di beam da utilizzare nella comunicazione. Quindi, in questo modo, partendo da una valutazione di quello che è l'ambiente, quindi la caratteristica propagativa, io, in qualche modo, sono andato a migliorare la stima di canale velocizzandone anche il trekking. E questi sono esempi che posso chiamare online, cioè esempi in cui la base station impara e agisce di conseguenza. Ma, vi cito adesso un esempio che chiamerei offline, di modo di adattarsi all'ambiente e questo è un frutto di una collaborazione che qua a Milano abbiamo avuto col gruppo del professor Zorzi dell'Università di Padua. Abbiamo applicato questo discorso dell'adattarsi all'ambiente al progetto di antenna. Cosa vuol dire? Beh, come dicevo prima, noi abbiamo gli array, no? Gli array fondamentalmente vengono progettati secondo dei parametri esclusivamente di tipo elettromagnetico, no? Però questo array, come ho detto, diventerà una base station e diventerà un nodo della rete e l'idea che abbiamo avuto è perché non andare a progettare questo array tenendo in conto non solo parametri elettromagnetici ma anche dei parametri di rete prestazionali intendo. È chiaro che la cosa in prima battuta è un po' difficile perché non è noto la relazione tra configurazione d'antenna e prestazioni di rete, no? Allora, uno come potrebbe fare? Vabbè, un primo approccio potrebbe essere quello della ricerca esaustiva, no? In cui io ho un simulatore che costruisco, lo alimento con una certa scelta di parametri di configurazioni d'antenna d'ingresso, faccio andare in simulatore e tiro fuori delle prestazioni. Lo faccio per tutto, faccio questa operazione per tutte fondamentalmente le scelte di configurazione d'antenna e alla fine scelgo la migliore, no? Quindi questa è una strategia che può essere fatta ma chiaramente ha il problema che può impiegare molto tempo perché magari una simulazione impiega diversi giorni quindi ora che io ottimizzo tutto l'array con questa procedura magari impiego diversi anni macchina che non sono sicuramente facili da gestire. A sinistra vedete un approccio tipo ricerca esaustiva insomma che stavo dicendo in qualche modo richiede un certo impegno a livello computazionale l'idea è stata appunto di usare sempre un simulatore per andare ad associare delle degli ingressi uscite quindi dei parametri d'antenna a delle prestazioni e quindi creare un set di esempi per addestrare un'intelligenza artificiale e poi fare in modo che l'intelligenza artificiale andasse ad imparare il mapping deterministico tra parametri d'antenna quindi configurazione d'antenna e performance di rete una volta che uno ha questo chiaramente l'ottimizzazione è molto più immediata perché ho in teoria ho imparato un mapping deterministico per quanto complesso esso possa essere chiaramente il punto da dimostrare in questo approccio è che il tempo che io ci metto ad addestrare l'intelligenza artificiale in qualche modo è maggiore scusate è minore rispetto al tempo che ci metto con l'approccio a ricerca esaustiva quindi il progetto in realtà alla fine ha dimostrato proprio quello sia che gli algoritmi di intelligenza artificiale in qualche modo fossero in grado di imparare il comportamento della rete e sono a slide successiva in cui dovreste vedere due grafici sia che gli algoritmi di intelligenza artificiale fossero in grado di imparare velocemente quindi che questo training in realtà fosse qualcosa che potesse essere gestito in modo abbastanza veloce quindi il tema questi sono degli esempi il tema qui è cercare in qualche modo di migliorare tramite quello che può essere un adattamento all'ambiente soprattutto le condizioni propagative ora slide di indice ancora che introduce il nuovo argomento quindi un argomento un po' diverso nel senso che in questo caso tentativo quello su cui ci si sta focalizzando dal punto di vista di ricerca in generale è quello di fare sì in qualche modo che l'ambiente possa essere adattato cioè l'ambiente diventi un personaggio un protagonista attivo della propagazione e non passivo come invece viene comunemente inteso allora prima quindi prima di arrivare a questo iniziamo insomma facciamo qualche premessa in particolare quello che c'è da dire è nel disegno che vedete in figura viene mostrato una base station per esempio supponiamo che siamo a millimetrico quindi a 28 GHz e chiaramente come dicevo prima ci sono un po' di difficoltà per la propagazione del segnale millimetrico specialmente in ambiente urbano perché ci sono gli edifici ci sono degli ostacoli questo crea delle zone di non copertura allora qual è la soluzione che il 5G attualmente ha per risolvere questo problema la soluzione standard e la vedete apparire in figura è il nodo IAB cioè IAB sta per integrated access and back call è un nodo di relay ma è una vera e propria base station che va a garantire una connessione di accesso all'utente e una connessione di back call verso la base station sulla stessa frequenza quindi è in grado di operare utilizzando la stessa risorsa radio ora come dicevo prima questo nodo è un nodo cioè non è un nodo semplice è una vera e propria base station questo ha anche delle ripercussioni a livello di costo perché implementa tutte le funzionalità che sono tipicamente richieste a una base station quindi non implementa solo il fisico ma tutte le funzionalità via via superiori quindi non è un solo estensore di copertura o di capacità ma in qualche modo è un oggetto che all'interno della rete collabora magari con la macro per abilitare dei meccanismi delle funzionalità di rete ed eseguirle magari in modo veloce un esempio è il fast and over no? cioè supponiamo che l'utente che adesso si trova nel coverage hole stia camminando prima era agganciato alla macro poi gira l'angolo perde la connessione della macro e in qualche modo l'IAB e la macro si mettono d'accordo per garantire una copertura di una continuità di copertura questo è un altro delle applicazioni dei nodi AB ora la domanda è questa è l'unica cosa che posso fare per andare in qualche modo a migliorare le condizioni propagative allora c'è una slide nuova che mostra fondamentalmente un'integrazione tra questi nodi attivi che sono per esempio i nodi IAB e alcune entità passive fino a creare quello che viene definito comunemente come un ambiente elettromagnetico intelligente cos'è questo ambiente elettromagnetico intelligente? beh io l'ho provato a definirlo qui può essere definito in vari modi ma per me è un ambiente che in qualche modo sfrutta le proprietà elettromagnetiche di alcune entità passive quindi stiamo parlando di entità che non vanno a introdurre amplificazione nella catena di segnale queste entità possono essere o statiche cioè progettate per funzionare in un certo modo e messe lì e installate oppure tra virgolette finte passive no? riconfigurabili nel senso che sono passive per quanto riguarda il fatto che non amplificano il segnale ma in qualche modo sono devono avere un po' di parti attive perché per essere riconfigurabili chiaramente devono avere delle circuiterie attive il voglio dire l'ottimizzazione e la pianificazione di questi elementi chiaramente di solito è fatta per ottimizzare le prestazioni di rete ora ditemi sempre se siete agganciati alla presentazione si ok grazie del riscontro perché quindi cosa quali sono questi elementi nuovi che compaiono che possono in qualche modo che fanno parte di questo ambiente elettromagnetico intelligente beh da una parte ci sono quelli che io indico come passive coatings quindi sono fondamentalmente dei materiali progettati per migliorare la propagazione questo nel modo più semplice possono essere dei riflettori metallici per esempio ho visto che c'è un articolo recentissimo che si mette a studiare questo tipo di oggetti per un contesto millimetrico in particolare 28 gigahertz oppure possono essere metasuperfici passivi sulle metasuperfici spendo qualche parola tra un po' un altro ingrediente di questo ambiente elettromagnetico intelligente sono quelle che vengono chiamate quelle qua a destra che vengono chiamate intelligent reflecting surfaces quindi sono delle superfici che in qualche modo a fronte dell'incidenza di un campo elettromagnetico da una certa direzione sono in grado per esempio di generare una riflessione arbitraria in letteratura se si legge insomma sono sono state studiate da tanto in generale hanno assunto vari nomi devo dire che la tecnologia che oggi come oggi si sta studiando quindi quella che sembra più che attrae il maggiore interesse per fare questo tipo di superfici sono le metasuperfici riconfigurabili cos'è una metasuperficie quindi dovreste vedere una sorta di indicazione in questa nuova slide allora è una superficie caratterizzata quindi parliamo di un ambiente bidimensionale caratterizzata di insomma di tanti elementi sublanda talvolta vengono chiamati metatomi che in generale possono essere opportunamente ingegnerizzati di modo tale che tutta la superficie abbia un comportamento desiderato dal punto di vista elettromagnetico cioè per esempio a fronte di un campo incidente elettromagnetico io posso fare in modo di configurare questi vari elementini di modo tale che la superficie vada a cambiare la polarizzazione del campo elettrico oppure vada ad avere un comportamento diffusivo o generi una riflessione in accordo a un pattern di una forma stabilita oppure posso andare a fondamentalmente illuminare questa superficie come un reflector ray quindi di modo tale da andare a stirare il fascio elettromagnetico verso una determinata direzione è chiaro che il modo più flessibile di usare questa superficie è quello di renderle riconfigurabili ma per rendere dei riconfigurabili quello che devo fare è introdurre come dicevo prima in questi elementini della circuiteria quindi circuiti integrati elettronici in modo tale in qualche modo da cambiarne al comando il comportamento allora ci sono un po' di temi aperti riguardo a questa tematica questa slide è fatta menziona le IRS quindi le Intelligent Reflective Surfaces ma io la estenderei proprio a tutto il mondo elettromagnetico l'ambiente elettromagnetico intelligente visto anche come coesistenza tra elementi passivi che ho descritto finora ed elementi attivi come nodi IAB e quant'altro allora una prima tema potrebbe essere come integrare queste superfici all'interno cioè queste superfici in qualche modo forse sicuramente dovranno essere degli oggetti molto semplici perché devono risultare anche attrattivi da un punto di vista economico quindi avranno delle funzionalità ridotte ma almeno avranno la possibilità di ricevere una segnalazione da parte della rete quindi come progettare come farle funzionare al meglio questo è un aspetto più teorico cioè come in qualche modo quello che manca sicuramente è capire quali sono i limiti teorici verso cui ci si può spingere riguardo queste intelligent reflecting surfaces quindi questa è una domanda più legata a prestazioni teoriche ma una cosa ancora più interessante è dire io poi come faccio a pianificare una rete a simularla a ottimizzarla una rete composta di tanti elementi tra cui ci sono anche queste intelligent reflecting surfaces sicuramente questo richiede uno sforzo simulativo notevole e che bisogna attrezzarsi un po' ad affrontare rispetto ai mezzi attuali ultima riflessione come dicevo prima è che questi oggetti e comunque questi oggetti che in qualche modo è vero che aiutano la propagazione ma d'altro canto il pacchetto completo dovrebbe essere una soluzione attraente dal punto di vista di mercato per gli operatori che poi andranno a installarle questo è un po' evocato dall'immagine che dovreste vedere dei pali della luce gli ho messi due certo i pali della luce evocano più uno scenario small cell per così dire cioè le intelligent reflecting surfaces molto probabilmente non saranno installate nei pali della luce però questo cosa voglio dire che io devo pensare sia a farle economiche come soluzione come costo proprio del componente ma devo pensare che poi queste entità andranno messe da qualche parte e dovrò pagare un affitto pagare un affitto sicuramente ha un impatto su quelle che sono le spese operative del mantenimento di una soluzione può anche avere un impatto abbastanza significativo quindi devo anche stare molto attento ottimizzare nel deployment quindi e poi chiaramente non posso installarle dove mi pare nel senso che dovremmo prendere accordi con una municipalità o comunque con un'amministrazione territoriale quindi queste sono anche considerazioni pratiche un po' meno teoriche ma che comunque vale la pena tenere in considerazione ora passo alla slide successiva che ci tengo particolarmente che vediate nel senso che questa è un po' una domanda in realtà per me aperta per voi che rappresentate il mondo della ricerca cioè la domanda è può una convergenza tra teoria dell'informazione e teoria elettromagnetica andare a dare dei benefici in termini di studio di quelli che sono i limiti teorici di questi nuovi ambienti che stanno nascendo cioè l'ambiente che abbiamo visto prima quindi l'ambiente elettromagneticamente intelligente ma anche altri contesti che sono nati nel 5G come lo studio del Massive Vaimo può questa come dire convergenza dare dei benefici allora non è che me la sono inventata io come vedete dall'immagine nel senso che già nel 1953 Gabor che vinto tra l'altro il premio Nobel per la fisica introduceva in un articolo un po' questo concetto dal punto di vista della ricerca affrontare questo tema è stata c'è stato ma è stato un po' a mio avviso un po' intermittente però insomma sta emergendo come nuova frontiera e sicuramente potrebbe essere uno spunto interessante per analizzare questi nuovi sistemi che in qualche modo guardano da vicino anche l'aspetto elettromagnetico bene ora cambio completamente argomento no resto sempre in scia ma diciamo un argomento un po' più coi piedi per terra e mi aggancio in particolare a quello che dicevo prima sul fatto che queste soluzioni in generale debbano essere attraenti dal punto di vista economico soluzioni intese come pacchetto completo in particolare il modello di cui vi parlo è un modello di business che è abbastanza interessante per me che prende il nome di infrastructure sharing e potrebbe essere anche uno dei fattori magari che possono aiutare il deployment di quello che è il 5G millimetrico dunque qual è il concetto di questo paradigma beh allora noi in una rete in generale li vedete qui a sinistra abbiamo diversi rettangolini quindi sono diverse risorse se io ho un operatore A e B cosa succede? che queste risorse possono essere o condivise o in generale possedute in modo separato l'approccio classico insomma è che ognuno abbia più o meno la sua possiede la sua risorsa ci può essere una condivisione come vedete qui secondo vari modelli questa è una classificazione che ho preso dal sito del GSMA un white paper in particolare può essere poco invasiva magari io vado a condividere solo il sito oppure può essere via via sempre più invasiva sempre più invasiva vuol dire che io vado a condividere una base station cioè la base station serve a due operatori e posso anche andare a condividere lo spettro le percentuali che vedete sotto le ho prese sempre da questo paper in generale e quello che vogliono evocare è che da un punto di vista di costi sia operativi sia di di mantenimento di fixi c'è un guadagno crescente a man mano che chiaramente aumenta in livello di condivisione quindi d'altro canto i vantaggi non sono solo economici ma ci possono essere anche vantaggi prestazionali in particolare in termini di quello che viene chiamato statistical multiplexing specie se vado a condividere la banda quindi ci sono studi anche abbastanza interessanti in letteratura su questo aspetto quindi arrivati qui una domanda dato che ho detto che questo potrebbe essere un modello interessante per lo sviluppo magari di reti millimetri che una domanda spontanea potrebbe essere ma si può praticare una cosa del genere o no allo stato attuale delle cose beh la domanda in realtà è insomma abbastanza ampia però per cercare di rispondere ho voluto focalizzarmi sul caso italiano no cosa è successo in Italia per adesso in Italia sono state date in licenza per quanto riguarda lo spettro 5G millimetrico scusate le bande che dovreste vedere in questa slide dal 26,5 al 27,5 a canalizzazioni di 200 MHz ora quello che si prevede come utilizzo di queste bande è che ogni operatore che ha avuto un certo blocco in licenza utilizzi il suo blocco in modo prioritario quindi ha sempre priorità sul suo blocco ma in caso che l'operatore vada a a installare la rete in zone in cui c'è solo lui può anche usare i canali adiacenti magari facendo degli accordi commerciali con altri operatori e in questa frase in questa diciamo espressione accordi commerciali secondo me c'è la possibilità di inserire un paradigma come quello dell'infrastructure sharing di cui ho discusso precedentemente chiaramente con un grado di condivisione opportuno a seconda chiaramente della necessità e questo fondamentalmente con questo ho chiuso il discorso dell'adattare l'ambiente come dire e vorrei concludere semplicemente solo con due slide relativi a quelli che possono essere sistemi già di futura generazione chiamiamoli così chiamati come 5.5G ma in generale cosa ci sarà in futuro inteso come da adesso in poi allora quello che vedete qui è un'immagine a cui dovreste essere abituati è il triangolo del 5G cioè il triangolo delle Bermude è quello del 5G mi viene da dire è un triangolo in cui fondamentalmente compaiono tre casi applicativi di riferimento con requisiti diversi quindi abbiamo l'alta capacità in alto l'alta affidabilità in basso a destra e le reti densi in basso a sinistra ora quello che succederà in futuro molto probabilmente è che questo triangolo viene un po' deformato magari diventerà un esagono cioè appare qualche spigolo in più uno spigolo vuol dire uno scenario applicativo di interesse in più per esempio l'applink inizierà a diventare magari un tema l'applink fino adesso magari le reti sono un po' bilanciate in favore del downlink ma ci saranno casi in cui specie in casi industriali l'applink potrà iniziare ad avere a ricoprire un ruolo abbastanza importante si parla poi di realtà aumentata realtà virtuale presenza olografica addirittura chiaramente qui siamo di fronte a requisiti di alta capacità e di bassissima latenza e poi chiaramente c'è il mondo automotive quindi della guida autonoma in cui chiaramente anche qui i requisiti iniziano a diventare quelli della bassa latenza e soprattutto saremo di fronte a una rete caratterizzata da degli elementi molto densi quindi una rete molto densamente popolata bene ultimissimo discorso su cui voglio spendere alcune parole è le tecnologie abilitanti per tra virgolette il futuro ma già se ne sta iniziando un po' a guardare adesso allora la tendenza qual è? beh si sta iniziando sicuramente a guardare con interesse alle regioni dello spettro del terahertz che sono indicate da uno di questi riquadri nella slide terahertz forse vuol dire anche sub terahertz cioè si inizia a guardare sistemi che possono usare frequenze a partire dai 100 gigahertz in su insomma per la comunicazione non solo per la comunicazione perché molto probabilmente si andrà a integrare comunicazione sensing e localizzazione nello stesso dispositivo quindi questo è anche un tema molto interessante sarà fondamentale andare a studiare tecnologie che abilitino sicuramente questa direzione verso regioni spettrali sempre più alte no? l'intelligenza artificiale sicuramente insomma è qualcosa che è stato molto studiato in questo momento e probabilmente si concretizzerà in qualche funzione ben specifica nei sistemi futuri inteso come sia come sistemi che imparano dall'ambiente un po' come quelli che ho presentato prima a tutti i livelli cioè ci possono essere benefici a livello fisico di Mac e anche di rete basta pensare alla sicurezza l'ultimissimo aspetto che voglio su cui voglio affermarmi sono le reti in particolare la topologia delle reti che probabilmente cambierà no? non solo perché magari ci saranno componenti tipo superfici passive no? o riconfigurabili che ho introdotto ma perché magari assisteremo alla alla coesistenza di elementi terrestri elementi non terrestri no? quindi questo è un altro tema come sviluppo futuro quindi parliamo di droni parliamo di infrastruttura satellitare eccetera bene io vi ringrazio l'attenzione che scusandomi insomma per gli inconvenienti di comunicazione che abbiamo avuto e spero che almeno nell'ultima parte sia andato tutto liscio quindi sono rimango a disposizione per domande che avete grazie ancora grazie a te jonathan un sacco di spunti interessanti e da meditare per chi come me si occupa della parte diciamo così di sensing elettromagnetico e della parte di modellizzazione delle reti utilizzando appunto una conoscenza modellistica sono sicuramente delle cose che che fanno pensare anche quella slide appunto in cui si vede Gabor che diciamo cerca di fare una di mettere insieme information theory con elettromagnetismo sicuramente è una cosa estremamente la domanda che ti vorrei fare è proprio sulla parte di transformative computing quindi come i sistemi di comunicazione i sistemi di sensing e i sistemi di computazione diciamo così possono potranno essere mescolati insieme nei sistemi di sesta generazione e oltre secondo te come potrà avvenire questa contaminazione tra i sistemi di sensing i sistemi di comunicazione i sistemi di di elaborazione sì beh ok questa sicuramente è una domanda molto molto ampia nel senso che innanzitutto ok pensiamo a un aspetto di comunicazione quello che molto probabilmente si renderà necessario è avere sistemi in grado di fornire dati ad alta capacità sto pensando a diverse nuove applicazioni che man mano lo andranno richiedere e anche a certi applicazioni che ho in mente per esempio anche uno use case che è noto con il nome di chiosco cioè l'idea di avere delle postazioni in cui l'utente fondamentalmente va a scaricare dati ad alta velocità in relativamente poco tempo quindi sicuramente diciamo questo sarà qualcosa di predominante di